. Mondiali Budapest 2017, domenica 30 luglio, programma e italiani in gara meno. Il programma completo e tutti gli italiani in gara di domenica 30 luglio 2017. L'ultima giornata dei mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Budapest, Ungheria, è una delle giornate più attese di tutta la manifestazione iridata in chiave italiana. . Infatti si disputano i 1500 stile libero maschili con Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti superstar, i due azzurri vogliono salire sul tetto del mondo e proveranno ad incantare il pubblico ungherese. . Giornata conclusiva che vedrà in acqua anche le finali dei 400 misti maschili e femminili oltre che i 50 stile libero femminili. . La manifestazione si concluderà con i 50 dorso maschili, ecco tutti gli orari ed il programma di questa ultimissima giornata dei mondiali. Ore 9.30 Nuoto, 400 misti femminili batterie. . A seguire nuoto, 400 misti maschili batterie, Federico Turrini. A seguire nuoto, 4x100 misti femminili batterie. Italia. A seguire nuoto, 4x100 misti maschili batterie, Italia. Ore 12.00 Tuffi, 27 metri maschili finale. . . Ore 17.30 Nuoto, 50 rana femminili finale, Arianna Castiglioni. A seguire nuoto, 400 misti maschili finale. A seguire nuoto, 50 stile libero femminili finale. A seguire nuoto, 50 dorso maschili finale. . . A seguire nuoto, 400 misti femminili finale. A seguire nuoto, 1500 stile libero maschili finale, Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti. A seguire nuoto, 4x100 misti femminili finale. A seguire nuoto, 4x100 misti maschili finale. . 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